Oggi è una verità, è un progetto, oserei dire, uno dei più validi che esiste in Nicaragua perché per chi l'ha visitato perlomeno possono vedere che i bambini vengono trattati bene, con molto amore e molta tenerezza. Viene qui a 9 anni, i primi tempi non mi acostumbré, non mi gustavo, ma subito al rio del techo perché non mi gustavo, poi con il tempo me fui acostumbrato e ho capito che ho capito che qui avevo a mia famiglia che mi voglia. Ho preparato andare a la università e essere una ragazza di bene per Nicaragua, di uguale maniera, apoyare a tutti quando io salgo d'aquì e sapere che come mi salvaron a me da la calle, da andare in peligro di rischio, salvaron a molti ragazzi e a molti ragazzi che erano in situazioni più pericolosi che le mie. I ragazzi adesso vogliono studiare, vogliono apprendere un mestiere e qui possono apprendere tanti mestieri. Noi sappiamo che un ragazzo che ritornano nella strada non si butterà più sulla strada a dove appega, ma si butterà a fare qualcuna delle cose apprese. L'unica cosa che io ho chiesto quando ho espresso ma chi me l'ha fatto fare avete venire così tardi, sarei dovuta arrivare prima.